Alessandro Preziosi ha una nuova fidanzata, è l'ex dell'ex di Vittoria Puccini. Il celebre attore italiano ha ritrovato l'amore a fianco dell'ex compagna di un suo noto collega, dando vita a un particolare intreccio. Alessandro Preziosi ha ritrovato l'amore e la nuova fidanzata è Delfina delle Trezfendi, ex compagna di un altro noto attore. A rivelarlo è la rivista Diva e Donna, che ha beccato i due mentre si scambiavano un bacio che lascia pochi spazi ai dubbi. Un intreccio particolare è quello che riguarda questa nuova coppia. Infatti, Delfina è l'ex fidanzata di Claudio Santamaria, che ha avuto una relazione in passato con Vittoria Puccini. Quest'ultima è l'ex compagna di Alessandro Preziosi, con cui ha avuto una figlia, Elena. Puccini dal 2013 fa coppia fissa con Fabrizio Lucci, diretto della fotografia conosciuti sul set di Anna Karenina. A distanza di anni, solo nel 2022 sono spuntati fuori i veri motivi che hanno portato Fabrizio e Vittoria a dirsi addio. Una storia d'amore, la loro, che ha appassionato tantissimi telespettatori italiani, in particolare il pubblico che li ha seguiti nei panni di Elisa e Fabrizio Ristori in Elisa di Rivombrosa. Oggi entrambi hanno voltato pagina. A quanto pare, finalmente anche Preziosi è riuscito a ritrovare l'amore. Sorpreso dai fotografi di Diva e Donna, il celebre attore napoletano ha attualmente una storia con Delfina delle Trezfendi. La storia di Diva e Donna, il celebre attore napoletano ha attualmente una storia con Delfina delle Trezfendi. La storia di Diva e Donna, il celebre attore napoletano ha attualmente una storia con Delfina delle Trezfendi. Diretta da Riccardo Donna, vede appunto come protagonista Preziosi, il quale è finito nella bufera la scorsa estate per via di una sua affermazione sui guadagni ottenuti dai suoi colleghi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.